A due giorni dalle votazioni per il rinnovo del Consiglio d'ambito del lato rifiuti ad Avellino è scontro sulla gestione del servizio. Il comune capoluogo sta per varare un aumento della Tari. La nuova tariffa riguarda i costi sostenuti dal gestore nel 2020 durante la prima fase della pandemia, ma già i costi del 2019 avevano fatto registrare un aumento. Sul punto la minoranza ha sollevato lo scontro in aula. Secondo il consigliere del PD Nicola Giordano, le diseconomie di Irpini Ambiente non possono più ricadere sui cittadini. Va rivisto il contratto con la società di servizi. La chiusura della discarica di Savignano porterà una levitazione dei costi, la mancanza di impiantistica porterà una levitazione dei costi, ma rispetto a questi costi ulteriori non abbiamo capito come sono i ristori sulla raccolta differenziata. Noi abbiamo un contratto che prevede esclusivamente superiore al 65% una ripartizione degli utili al 50% tra il comune di Irpini Ambiente. Questa cosa è superata e c'è necessità in questo momento di riverificare i nostri rapporti con Irpini Ambiente. Nell'ultimo piano economico finanziario vengono ribaltati circa 800 mila euro di costi e nel bilancio di Irpini Ambiente abbiamo una levitazione dei costi di circa 3 milioni rispetto ai servizi. Questa cosa non può funzionare, non può funzionare perché è tutto a carico dei cittadini e laddove i cittadini non possono pagare in quanto Arera mette un tetto massimo ai costi per la raccolta, per lo smaltimento, vanno a carico del bilancio comunale.